La tragedia di Ischia ricorda che l'Italia è sempre più fragile, con il rischio idrogeologico che cresce a causa dell'abusivismo. Mentre le costruzioni in aree vietate non vengono demolite, accelerano gli eventi climatici estremi, che nei primi 10 mesi del 2022 fanno segnare un più 27% rispetto all'anno precedente, toccando quota 254. Nel 2021 aumenta la superficie nazionale potenzialmente soggetta a frane e alluvioni. L'incremento sfiora rispettivamente il 4% e il 19% rispetto al 2017, avverte Ispra. Quasi il 94% dei comuni italiani è a rischio dissesto e soggetto ad erosione costiera e oltre 8 milioni di persone abitano nelle aree ad alta pericolosità. Zone nelle quali non si può edificare, ma dove con sprezzo del pericolo e del buonsenso si costruiscono edifici abusivi, sperando nell'ennesimo condono. Purtroppo in alcune aree del paese il fenomeno è più marcato e il Lega Ambiente, indagando sulle mancate demolizioni nei comuni italiani, segnala una penisola spaccata in due. Sulla base dei dati relativi a 1819 comuni su 7909, dal 2004, anno dell'ultimo condono, al 2020 è stato abbattuto solo il 32,9% degli immobili colpiti da un provvedimento amministrativo, un dato trainato dall'attività degli enti locali delle regioni del centro-nord. Male, invece, il Sud, che a parte la Basilicata, con un 26% delle ordinanze di demolizioni eseguite, vede la Puglia piazzarsi in fondo alla classifica, con un misero 4%, preceduta dalla Calabria con l'11,2% e dalla Campania con il 19,6%. Nel nostro paese il fenomeno dell'abusivismo edilizio è stato alimentato ogni volta che si è parlato di condono. Questo è avvenuto nell'85, nel 94, nel 2003 ed è avvenuto anche nel 2018, quando il governo Conte 1 ha varato la sanatoria per velocizzare la ricostruzione post-terremoto sull'isola di Ischia. Il paese non ha bisogno di condoni che fanno accendere le betoniere degli abusivi, ma ha bisogno delle ruspe per abbattere le costruzioni illegali. Solo così riusciremo a ripristinare legalità, bellezza e sicurezza dei cittadini. In Amazzonia la deforestazione sta raggiungendo il punto di non ritorno. Il 18% della foresta amazzonica è stato completamente perso e un ulteriore 17% è degradato e il giaguaro rischia l'estinzione. Lancia l'allarme il WWF nella giornata mondiale del giaguaro. Secondo il live in Amazon Report dell'associazione, la continua perdita della foresta amazzonica avrà ripercussioni sul sostentamento di circa 47 milioni di persone, metterebbe a repentaglio la sicurezza alimentare e renderebbe impossibile mantenere il riscaldamento del pianeta al di sotto di 1,5 gradi. Stiamo parlando di 6,7 milioni di chilometri quadrati che comprendono il più grande complesso di foreste e fiumi del mondo, ospitando circa il 10% della biodiversità mondiale. È urgente quindi uno sforzo globale per proteggere l'80% della foresta e renderla ecologicamente sana. Il più grande felino delle Americhe, nonché una delle specie più emblematiche dell'Amazzonia, il giaguaro, ha bisogno di grandi aree di territorio per soddisfare i suoi bisogni essenziali e la distruzione dell'habitat è una delle principali minacce alla sua sopravvivenza. Il giaguaro ha però visto ridursi negli ultimi anni il suo areale di più del 50%, ma questa è solo la punta dell'iceberg. A minacciare la sopravvivenza di questo straordinario felino, presente in 18 paesi tra America centrale e settentrionale, è anche la persecuzione diretta da parte dell'uomo. Oltre 3.000 uccelli selvatici sequestrati, di cui quasi la metà ancora vivi e affidati a centri specializzati per il recupero e per l'altra metà già morti e pronti per il consumo. Un bracconiere arrestato e 141 persone denunciate per reati contro gli uccelli selvatici. Oltre 1.700 le trappole di morte sequestrate tra archetti e trappole metalliche SEP che causano gravi sofferenze alla fauna, lasciata viva e agonizzante per ore. Sequestrate anche 175 reti per l'uccellagione, pari a oltre un chilometro e mezzo di lunghezza e 40 richiami acustici. Sono alcuni dei dati che emergono dal bilancio dell'operazione anti-bracconaggio Pettirosso 2022 dei Carabinieri Forestali, operazione coordinata dal reparto operativo del SOARDA, sezione operativa anti-bracconaggio e reati in danno agli animali, del raggruppamento Carabinieri Cities con i gruppi Carabinieri Forestali di Brescia, Bergamo e Mantua e che ha visto anche il grande contributo dei volontari della Lipu. Numeri che confermano l'area delle prealpi Lombardo-Venete come uno dei più impegnativi black spot individuati dal Piano d'Azione Nazionale per il contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici. L'Italia si colloca al primo posto a livello europeo per tasso di avvio al riciclo dei rifiuti, sia urbani che speciali, rispetto al totale gestito. Il dato italiano, pari all'83,2%, è decisamente superiore non soltanto alla media UE, ma anche rispetto ai maggiori paesi dell'Unione, Spagna, Francia e Germania. Così lo studio annuale l'Italia che ricicla di asso ambiente, l'associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare e smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche. Guardando al tasso di circolarità dei materiali, che misura la quota di materiale riciclato e rimesso nell'economia, nell'uso complessivo dei materiali, l'Italia, con il 21,6%, si colloca poco sotto il primato della Francia e comunque sopra la Germania e la Spagna e, più in generale, al di sopra della media UE. Un trend in decisa crescita se si tiene conto che tale indicatore si assestava al 12,6% solo nove anni fa. Un primato che si conferma anche con riferimento al tasso di utilizzo di metalli provenienti dal riciclo, che denota il contributo offerto dai metalli riciclati al soddisfacimento della domanda complessiva. Qui l'Italia costituisce addirittura il benchmark di riferimento tra i principali Stati europei, con un 47,2%, con Francia, Germania e Spagna decisamente più indietro.